A presto, tutto! Siamo giù la carriera! Dov'è giocare? Dove? Quasciù! Ma con cosa? Con i giochi! Con i tuoi! Non ne ho dei giochi, ma... Vengo qui da sola! Vengo a prendere i bambini! Vengo a prendere i bambini! Prisa! Vengo a prendere il trap! Dov'è giocare xi. Gianni, Gianni! Grazie a tutti